Buongiorno, mi chiamo Marina Senaldi, sono candidata per la Lega Civica Cittadini di Centro e appoggiamo il candidato sindaco Cassani. Tra i tanti progetti che abbiamo in mente, in quanto neogenitore, mi sento in modo particolare di sostenere tutte quelle che sono le problematiche legate ai neogenitori, quindi asili nido, aree verdi e parchigioco da risistemare e sviluppare. Quindi se venissi eletta sicuramente mi prodigherei per sostenere queste priorità per le famiglie gallaratesi.